La centralità della famiglia perché è importante che non si dimentichi che il primo responsabile della formazione è la famiglia. Da questo punto di vista devo applaudire alla circolare attraverso la quale il ministro Giannini e i suoi collaboratori con il sottosegretario Toccafondi hanno voluto chiarire che la famiglia resta il primo soggetto che educa e che quindi nessuno in nome di niente può permettersi il lusso in maniera sorrettizia di far passare le proprie fissazioni, le proprie ideologie, la forza del proprio pensiero unico. Questo non è possibile. Allora se la riforma della scuola e le circolari che l'accompagnano ci aiuteranno a recuperare questo, ripeto a recuperare il ruolo centrale della famiglia, io dico ha operato una grande svolta.